Carissimi amici, 18 novembre, Hotel dei Tigli a Custagno, tutti insieme, una giornata bellissima. Padre Ottavio, che giornata sarà? Perché venire? Bellissima perché ci rivediamo, ci troviamo e riusciremo a condividere quello che in quest'anno abbiamo costruito insieme per realizzare un dialogo concreto con il nostro amico popolo di Capoverde. E quello che mi dà anche gioia, con noi saranno 11 ragazzi e ragazze che stanno frequentando l'ultimo corso, le ultime 500 ore di esperienza lavorativa nelle cantine dell'Albese guidate dalla Scuola Enologica di Alba. E questa è una grandissima consolazione, vedrete 11 ragazzi e ragazze che si preparano a tornare nella propria terra e a lavorare per la propria terra, per il futuro loro. Quindi insieme a questa squadra di calcio capoverdiana, 11 ragazzi, come una squadra di calcio, che sono qui per portare lavoro, formazione nella loro patria, stiamo con loro in questa giornata, 18 novembre, Hotel dei Tigli a Custagno. Tutti voi, vi aspettiamo.